Lei era presente quando Victoria ha riempito i bicchieri? Ha bevuto insieme a lei? Risponda per favore, signora Van Weyden. Sì, deve essere andata così. Perché se lei non fosse più stata presente quando Victoria ha versato il veleno nel bicchiere, come avrebbe potuto finire lo stesso identico veleno nella sua borsa? Può fornire una spiegazione, signora Van Weyden? Dica la verità, finalmente. Per tutto questo tempo lei ha mentito. È stata lei, secondo me. Sì, lo confesso. Ho mentito. È stata lei, secondo me. È stata lei, secondo me. È stata lei, secondo me. Ho mentito. È stata lei, secondo me. o mi vedrò costretta a sgonverare l'aula immediatamente. Quindi ammette di aver mentito. A questo punto sarà meglio che ci racconti come sono andate realmente le cose. Prima di uscire di casa, ho brindato con Victoria la sua imminente partenza. E perché mai ce lo dice solo adesso? Per favore risponda alla domanda. Quando ho sentito che lei era stata avvelenata, ero certa che mi avrebbero accusata immediatamente. Per quale motivo? Non era un segreto che noi due ci odiassimo. Va bene. Quindi lei avrebbe bevuto con Victoria e immediatamente dopo avrebbe lasciato la casa, è giusto? Che stupida. Mi ero scordata di una cosa. Sì, esatto. E che fine avrebbe fatto il suo bicchiere? Sa bene che le uniche impronte che sono state rilevate erano su un bicchiere. Non so dove sia l'altro. E se per ipotesi lei avesse atteso che il veleno facesse effetto su Victoria van Biden prima di andarsene e invece di aiutarla avesse preferito lasciare morire la sua acerrima nemica e coprire poi le sue tracce? Obiezione, un'ipotesi non supportata da prove. L'ha scritto chiaramente nella sua lettera che era lei che voleva avvelenarmi. Obiezione accolta. Per favore, si attenga ai fatti, avvocato. Mi chiedo allora chi ha nascosto il suo bicchiere se non è stata lei. Non può essere stata che Victoria, ovvio. L'ha fatto per far credere che fossi io la colpevole. Smettila con queste menzogne, Anna. Lei sì. Confessa di avere Victoria sulla coscienza. Lei è lasciata morire senza pietà. Non fare. Silenzio! Dovete condannarla! Chiudetela in carcere per sempre! Silenzio! Abbandoni subito l'aula. È espulsa dall'udienza. Nessuno verserà una lacrima per te. Questa è una vera ingiustizia! Al momento non ho altre domande per l'imputata. Ciao, Eva. Come stai? Bene. Ma se vuoi saperlo, sarei rimasta almeno un'altra settimana da Birgit. Beh, avresti dovuto farlo. Invece dimmi un po' che succede qui. Dove sono tutti? In tribunale perché è cominciato il processo contro Annabelle. Ah, speriamo che la condannino. Accidenti come sei elegante. Non mi capita mai di andare a ballare con una donna così affascinante. Sentito cosa ha detto? Certo! Ed è soltanto perché è mio fratello che glielo permetto. La prossima volta il tuo piede sarà guarito e potrai accompagnarmi tu. Sì? Sì, naturalmente. Già, oggi non dovrò andarci da sola, visto che hai un sostituto. Marianne, lui lo sa. Cosa? Sa che non è vero che mi fa male i piedi. Mio fratello non ha mai saputo mentire. Vittoria ha avuto il tempo necessario per far sparire il mio bicchiere affinché venissi incolpata. Sicuramente aveva capito che sarebbe morta. Ma sapeva anche che io al posto suo non avrei lasciato neanche un'impronta. Forse ho organizzato tutto soltanto perché io oggi venissi condannata. Ma io sono innocente. Ed è per questo che io chiedo la soluzione. La corte chiama a deporre la testa Luisa Maywald. Serve. Signorina Maywald, le sue generalità sono già state registrate. Allora, lei lavora come domestica nella villa dei Van Weyden, è esatto? Sì, è così. Afferma, consapevole della sua responsabilità di dire nient'altro che la verità e di non nascondere niente di quante a sua conoscenza? Sì. È stato riportato a verbale che lei era presente quando Victoria Van Weyden è stata ritrovata all'interno della villa. Era ancora viva quando l'avete trovata? Sì. È morta poco dopo, purtroppo. Ha detto qualcosa prima di morire? Sì, poco prima di morire. Ha detto che il veleno era nella borsetta di Annabelle Van Weyden. Ricorda le parole esatte, signorina Maywald. Ha detto Annabelle, il veleno, nella sua borsetta. E poi è morta. Ricorda anche qualcosa della stanza dove è stata ritrovata Victoria Van Weyden? Sì, la mattina avevo controllato io stessa che tutto fosse in ordine. E ha notato qualcosa di diverso dopo? Quando vi è stata ritrovata Victoria Van Weyden? C'era un solo bicchiere sul tavolo. È certa che ci fosse un solo bicchiere? Assolutamente sì. C'era qualcun altro in quel momento in casa che avrebbe potuto rimuovere un secondo bicchiere? Credo di no. Erano tutti alla festa della famiglia Becker. Non ho altre domande, signor Presidente. Signor Presidente, se me lo consente, avrei io altre domande da porre alla testa? D'accordo. La parola alla difesa. Questo è per te, per farmi perdonare. Per cosa? Coraggio, aprilo. Hai provato a rincollare la maschera? Sì, ma senza successo. È molto bella, ma non può sostituirla. Sì, lo so. Comunque, grazie. Come stai? Veramente non lo so. Questo processo mi rende la vita impossibile. Probabilmente Annabel verrà assolta e sai perché? Perché è innocente? Perché Luisa ha dato all'avvocato la lettera di addio di Victoria. Ma era l'unica cosa giusta da fare. Quindi tu la difendi ancora? Sì. Non posso più stare insieme a Luisa, ma questo non vuol dire che non ci tenga a lei. Anch'io ci tengo, cosa credi? È pur sempre mia sorella. Se hai bisogno di me, sono in camera mia. Dove lavorava prima di essere assunta come domestica a Falkenthal? Alla Royal Saphir, a Valdro, come cameriera. Dal suo curriculum risulta che all'inizio è stata assunta come governante. Perché è stata dequalificata? Non ho controllato abbastanza a fondo una delle camere. E uno dei clienti ha perso la vita. Ma se le è già accaduto un'altra volta. Come può essere così sicura che non ci fossero due bicchieri e non uno sul tavolino nel soggiorno della villa? Obiezione, signor Presidente. Non è un'informazione utile ai fini del processo. Certo, accolta. Non ci lavorava anche sua sorella adottiva Nora in quello stesso hotel? Sì, è così. E non è la stessa sorella che lei ha aiutato a fare un test del DNA in segreto per ricattarmi, o sbaglio? Lasci fuori da questa storia mia sorella. Soffre già abbastanza perché lei non vuole riconoscerla come figlia. Ed è forse per questo motivo che sua sorella ha tentato il suicidio? No. Lo ha fatto piuttosto perché lei le ha portato via all'uomo che ama. È così che si comporta una sorella? Obiezione, signor Presidente. La domanda è assolutamente irrilevante ai fini del processo. Accolta. Per favore, si attenga ai fatti, signora Van Weyden. D'accordo. Parliamo della signora Weyand morta improvvisamente dopo che ha cercato di convincerla a testimoniare contro di me. È corretto? Obiezione! Dopo aver causato tutti questi incidenti lei viene qui con tanta disinvoltura a deporre come testimone. Mi chiedo se lei sia davvero attendibile. Può mettermi in discussione quanto vuole. Ho sentito che cosa ha fatto a Victoria Van Weyden. Già, certo. Le presunte ultime parole di Victoria. E cioè... Annabelle, il veleno nella sua borsetta. Non può certo negare che il veleno sia stato trovato lì. Sì, ma è stata Victoria a nasconderlo nella mia borsa. Riguardo alle parole che ha sentito. Ho qui il parere di un esperto. Il veleno di serpente causa fortissime allucinazioni. Victoria avrebbe anche potuto giurare di essere stata avvelenata dagli alieni. Quindi la sua affermazione non è attendibile. È assurdo che l'accusa si basi soltanto sulla testimonianza di questa donna che ha cercato ripetutamente di screditarmi. La signorina nella concitazione del ritrovamento di Victoria ha contato anche i bicchieri. E io dovrei essere condannata sulla base di queste deboli prove? Elsa! Vorremmo altri due bicchieri di vino rosso. Il migliore che hai, per piacere. Ma è che cosa ci fai qui? Le lasagne erano bruciate? No, le lasagne erano buone, ma lui aveva già mangiato. Non aveva capito che avevate un appuntamento per pranzo? No, e neanche che si trattasse di un vero appuntamento. Non credo sia innamorato di me. Certi ragazzi sono proprio duri di comprendonio. Già, ma che ci vuoi fare? Forse avrei dovuto dirgli più chiaramente cosa mi aspettavo da lui. Non starà giocando? Devo dirgliene quattro per caso? No. Era così in imbarazzo per non aver capito. Già, e mi ha fatto tanta tenerezza. Non ci sei rimasta male? Sì, ma almeno adesso so che cosa aspettarmi. Dovresti farlo anche tu. Lei ha nascosto intenzionalmente la lettera di Victoria che mi avrebbe scagionata. È esatto? Ho già risposto a questa domanda. Sì o no? Sì. Chi altri ne era conoscenza? Nessun altro, solamente io. Perché volevo mandarmi in prigione anche se sono innocente? Non sono obbligata ad autoaccusarmi. Ha pienamente ragione. Non è obbligata a rispondere a questa domanda. Non è la prima volta che cerca di addossarmi un crimine che non ho commesso. Come l'incendio alla Falkenthal Porcellane che invece aveva causato Victoria. Ha messo in atto i piani più assurdi, pur di farmi apparire colpevole. Aveva i suoi buoni motivi? Per non parlare del rapimento di Victoria. Mi trovavo in Cina in quel periodo, ma... Lei ha sparso la voce che c'ero io dietro al rapimento. Dico bene? Risponda alla domanda, per favore. Pensavo che fosse lei la responsabile. Lo pensava, ovviamente. E sarei responsabile anche del buco dell'ozola. Obiezione, signor Presidente. D'accordo. Ritiro quello che ho detto. Ma che cosa ci guadagna una donna a fare di tutto per incriminarmi? È facile. Vuole semplicemente riconquistare il suo ex marito, che ha lasciato più di vent'anni fa. Quindi il mio crimine è amare lo stesso uomo e averlo sposato, ovviamente. Ecco perché fa tutto questo. Tutto questo è solo per un modo. Vorrei chiamare adesso, al banco dei testimoni, Hagen Ritter, marito della defunta. Guarda che i cellulari funzionano anche nel bosco. E che cosa dovrei dirgli? Ciao, sono la donna che sta ignorando da quando l'hai baciata? Non è che forse ha capito che non ti interessa una relazione seria? È una cosa che ho confidato solo a te, non a lui. Non è interessato a me, ecco il perché. Ma non puoi saperlo. Se vuoi il mio parere, dovreste chiarirvi. Afferma consapevole della sua responsabilità di dire nient'altro che la verità e di non nascondere niente di quanto è a sua conoscenza? Sì. La parola alla difesa, prego. Lei è Hagen Ritter, marito della defunta Victoria van Weyden? Smettila di giocare, sai benissimo chi sono. È sotto giuramento? Sì, sono io. Ha mai visto questa lettera prima d'ora? Sì. Proprio qui, è la lettera di addio di mia moglie. Vuol dire che quindi prima non l'aveva mai vista né tenuta in mano? No, non ho mai visto quella lettera prima dell'inizio di questo processo. Grazie, non ho altre domande. Tutto qui? Se non le viene in mente altro. A questo punto, possiamo chiudere qui l'escussione dei testimoni. La corte si ritira per deliberare. La pronuncia della sentenza avverrà domani mattina. L'udienza è tolta. È dannatamente sicura di sé. Certo, grazie a te e ad Elena, adesso ne ha tutti i motivi. Aralda è ancora in laboratorio. Ho sempre sperato che prima o poi venisse contagiato dalla musica. Ti va di ballare ancora? Cosa? Adesso. Per non perdere l'allenamento. Forse dovremmo provare da qualche altra parte, che dici? Sì, ma non adesso. Sono distrutta. Mi è venuto un crampo. Stendi la gamba, Evan. Sembra che funzioni. È successo altro dopo che sono andata via? Sì, ha testimoniato Luisa e Annabelle si è divertita a distruggerla davanti a tutti. Cosa? La sua testimonianza avrebbe dovuto essere determinante. Annabelle ha cercato di mettere in dubbio la sua credibilità e ci è riuscita, purtroppo. Che significa che sarà assolta? Credo che non ci siano prove sufficienti per condannarla. Ancora una volta è riuscita a sembrare lei la vittima. Nessuno di noi sa come sono andate le cose, Lissi. Non crederai che Victoria sia morta pur di incolpare lei? E se Victoria avesse davvero bevuto il veleno senza l'aiuto di Annabelle? Per errore. Questo non vuol dire che Annabelle non sia rimasta qui a guardarla morire. Non ci sono prove neanche di questo. Ma se fosse andata così, papà, allora Hagen e Ellen hanno fatto bene a nascondere la lettera d'addio. Anch'io avrei agito così e tu no. Perché sei tanto duro con loro due? Volevano solo vendicarsi. E siccome sapevano che non avrei tollerato i loro mezzi, mi hanno mentito. Ma se Annabelle venisse veramente assolta per tutta la nostra famiglia sarebbe un duro colpo. Se vuoi ricominciare una guerra con Elena, io non so... Non so se riuscirò a sopportarla. Se avessimo almeno un testimone che potesse incriminarla. Ma così? Le accorderanno la classica assoluzione per insufficienza di prove? Sì, perché tu hai consegnato al giudice la lettera. Chissà perché oggi ti ha lasciato stare quando hai mentito sotto giuramento. Sapeva bene che tu eri a conoscenza di quella lettera. Non ne ho idea. Ma volevo chiederti una cosa. Se Elena non si fosse presa tutta la responsabilità, tu che avresti fatto? Avrei cercato di dormire qualche ora in più, pensando magari a qualcosa di diverso dal processo. E ti consiglio... di fare lo stesso, Hagen. Buonanotte. Buonanotte. Un testimone che possa incriminare Annabelle. Ciao, Simon. Elsa. Come mai solo soletto? Non per molto, sto aspettando Conrad. Conrad? Ciao, voi due siete grandi amici. Sì. E vi raccontate anche tante cose, non è vero? Non mi dirai che vuoi sapere di che cosa parlano i tuoi clienti. Ciao, Lucy. Ciao. Un bicchiere di vino rosso, anzi una bottiglia intera. Anche tu? Che mi dici? Com'è andato? È finito il processo finalmente? Direi di sì. Dopo che Annabelle ha distrutto Luisa davanti alla corte, non resta più molto da fare. Perché? Che è successo? No, io ero già andata via, ma ho saputo che lei ha fatto di tutto per far apparire Luisa poco credibile. Ha gli occhi di tutti i presenti. Sì, questo è tipico di Annabelle. Luisa, come sta adesso? Si è consolata in fretta. C'è Ennighe con lei. Ah, è Ennig, certo. E lì che succede? Niente che somiglia ad un appuntamento. Finalmente la moto è pronta per il giro. Dimmi che non sono già alla fase e rimaniamo amici. Oh sì, ma lei se la sta cavando bene. Sono proprio contenta. Bene. Peccato. È stata una faticaccia, ma ne è parsela bene. Adesso è perfetto. Allora Elsa, come procedono i tuoi lavori in corso? Un vero disastro. Conrad, pensavo che non arrivassi più. Scusa, dei cuccioli di cinghiale hanno fatto il finimondo. Ho dovuto aiutarli a raggiungere la propria madre. Guardia forestale, amico e aiuto. Già. Ciao, Conrad. Ciao, Elsa. Vuoi qualcosa da bere? Un caffè. Basta così? Sì. Ok. Come stai? Meglio, grazie. Ho appena preso un calmante. È stata una giornata faticosa per tutti. Riccardo. Quello che ho fatto, l'ho fatto per noi. Nessuno sa cosa sia accaduto quando è morta Victoria. Non ha alcuna importanza chi delle due volesse avvelenare l'altra. Senza Annabel, Victoria sarebbe ancora viva. Nessuno può saperlo. Avresti dovuto vederla quando è arrivata da Lanzino quel giorno. Ha detto che era lì per festeggiare la conclusione di un affare. Festeggiava la morte di Victoria, capisci? Capisco solo che cerchi un colpevole per quello che è successo. Se Annabel domani verrà assolta, non ci sarà più la causa di divorzio. Non è vero, sarebbe soltanto rimandato di un po'. E fino a quel momento dovresti vivere sotto lo stesso tetto con la donna che ci ha procurato tanto dolore. Vuoi affrontare tutto da solo? Non ero già da solo da un po' di settimane e senza saperlo. Questo atteggiamento è davvero fuori luogo, Richard. Fino a ieri l'unica cosa che ti importava era vedere Annabel in prigione. Non sapevo ancora di non poter più contare sulla mia stessa famiglia. Che cosa ci sta succedendo? Non lo so, Elena. Aspettiamo domani. Vediamo come va. Buonanotte. Buonanotte. Ma secondo te Nora è così fragile... Da provare a farlo di nuovo? Non lo so. La seconda volta l'ho salvata per puro caso. Che succederà adesso? Non ne ho idea. Forse le cose migliorerebbero per Nora se sua madre si decidesse a riconoscerla. Ma non credo che basti questo per fare in modo che ti lasci in pace e ti permetta di stare insieme a Luisa. Lo so. Quasi quasi mollo tutto e me ne vado via. E perché non lo fai? Se lascio il posto di lavoro mio padre non potrà più fare le sue ricerche. Sai una cosa? Mi passa la voglia di parlare dei miei problemi quando penso ai tuoi. Ah, grazie. Mi sei d'aiuto. Adesso non hai più la scusa che Conrad non si fa mai vivi. Che cosa aspetti? Sai quali sono le uniche parole che mi ha detto? Ciao e un canale. Non è inutile provarci. Avevamo stipulato un patto. Io l'ho mantenuto, ho chiarito il mio rapporto con Sebastia. Già, ed è per questo che ora siete soltanto amici. Sì, ma almeno così evito di assillarlo e di illudermi. Credi che sarebbe qui se non tenesse un po' a te? Gli sono totalmente indifferente. E allora perché ti ha baciato? Avanti. Chiedere non costa niente. E così ho saputo che ci è andata con lui. È dura, lo ammetto. Quindi ti ha screditato davanti alla corte. Che ingrata, vero? E tu l'hai anche aiutata con quella lettera. Quella lettera prova solo che Victoria voleva avvelenare Annabelle van Weyden. Come sia veramente morta. Non possiamo saperlo. Avrà preso il veleno volontariamente per non dover più vedere la faccia di Annabelle. Nemmeno a me piace Annabelle, ma per favore smettila con queste cattiverie. Tu come ti sentiresti se fossi stata privata per tutta la vita di quanto ti spettava? Ah, già, dimenticavo. Hai fatto una vita da cenerentola con papà, mamma. E me. Non è assolutamente questo che volevo dire. Ma tu non sai com'è triste... essere rifiutati così. Scusate, so che è molto tardi, ma... dovrei parlare con sua sorella, Luisa, da solo. Dai, va via. Mi trovi in cucina. Grazie. Che bella camera. Un po' piccola per due persone, non trova? Sì. Le offrirei volentieri qualcosa da bere, ma... in questa casa non posso prendere iniziative. Deve essere umiliante per lei essere ripudiata dalla propria madre. È difficile, vero? Per me può anche marcire in prigione. Può succedere. Ah, sì? E come? Domani l'assolveranno a causa di quella stupida lettera. Ci vorrebbe qualcuno che testimoniasse contro Annabelle. Per esempio, un testimone oculare. Qualcuno che abbia visto per puro caso Annabelle eliminare il secondo bicchiere dopo aver brindato con Victoria. Mi sta chiedendo di testimoniare il falso contro mia madre? Non ha appena detto che vorrebbe vederla marcire in prigione? Non si dovrebbe incriminare la propria madre. Certo, ha ragione. Ma non si dovrebbe neanche rinnegare la propria figlia. Nora, mi dica sinceramente, vuole davvero vedere sua madre marcire in prigione? Invece tra te e Delsa che è successo? Niente, perché? Non riesce a toglierti gli occhi di dosso. Sì, me ne sono accorto. Ma non vuole impegnarsi. E tu come lo sai? L'ha detto lei stessa. A te? Non a me, ma a Maike. Le ho sentite per caso mentre parlavano. Beh, almeno adesso la situazione è più chiara. Non sembri contento. Elsa, mi piace. È un peccato che non abbia funzionato tra noi due. Però... Mi dispiace. Doveva andare così. Un'altra birra? No, è meglio che vada. E tu? Io rimango ancora un po'. D'accordo, allora ti auguro una buona serata. Anche a te. Ciao. 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 Ti porto qualcos'altro? No, grazie, sono a posto. Non ti fai... vedere più qui da tanto tempo? L'autunno nel bosco è alta stagione. Capisco. Ecco, adesso devo proprio andare. Certo, nel bosco. Sì. Perché? È che avevo bisogno del tuo aiuto. Si è fulminata una lampadina su da me e visto che l'ultima volta per cambiarla ho preso la scossa, avevo pensato che forse... Posso dare un'occhiata? Posso dare un'occhiata io alla lampadina? Alla lampadina? Sì. Se hai un po' di tempo, ovviamente. Non ci vorrà molto. Ok. Sebastian, per favore, puoi andare tu al bancone. Cosa? Ma adesso non è il mio... Sì, invece. Sta tranquilla, Elsa. È ora che quei due si parlino, che dici? Hagen, che cosa ci fai tu qui? Non sono affari tuoi. Indosso una cavigliera elettronica, ma questo non autorizza nessun estraneo a intrupolarsi di notte in casa mia. Sono andato in camera di Victoria a pregare per la tua condanna. Che illuso. Non potresti accettare una volta per tutte di aver perso? Hagen, che ci fai qui? Riccardo. Era andato in camera di Victoria. Non essere cattivo con lui. A quest'ora? Non sapevo che ci fosse un orario di apertura. No, certo hai ragione. Tanto avevo bisogno di parlarti. Per favore, ci lasci soli? Certamente. Spero che tu non stia cercando un altro modo per impedire il verdetto di domani. Credi che ne sia capace? Non so di cos'altro tu sia capace. La storia della lettera è stata un errore. Mi dispiace, ok? Non è così facile passarci sopra. Oggi hai finito per giurare il falso in tribunale. Sì, e l'avrei confessato, ma sarei stato radiato. Per questo Elena si è addossata alla colpa. Questo però non giustifica il fatto che tu mi abbia nascosto la lettera. Avevo il diritto di sapere. Victoria era mia figlia. Riccardo, l'abbiamo fatto solo perché... Sì, sì, sì. Sapevate che l'avrei consegnata subito alla polizia. Scagionando Annabelle. Hagen, non credere che io non capisca le tue motivazioni. Ma rimane il fatto che è sbagliato. Tu sei un avvocato e dovresti essere il primo a rispettare la legge. Oh, credo che Mike abbia già sostituito la lampadina. Davvero? Sì, è che... Era solo uno stupido pretesto per farmi venire qui. Credi sul serio che me lo sia inventata? Dovevi cambiarla davvero? No. Ma allora perché questa sceneggiata? Conrad, io volevo soltanto parlare un po' con te... Senti, da dove vengo io? Mi hanno insegnato a non fare giri di parole e ad arrivare dritto al punto. E immagino che da dove vieni tu le persone non parlano per non disturbare i cinghiali. È meglio che me ne vada. Sì! Vattene pure nel bosco. E visto che ci sei, portati via anche questa. Forse troverai una cerbiata che sarà contenta di vederti. Ci vediamo, Elsa. Penso che potresti divertirti se facessimo qualche cosa insieme. Sì, ma mi diverte anche guardare voi due mentre ballate. La macchina del caffè alla villa è rotta. Posso prenderne un po' del vostro? Sì, ma certo. Questa mattina sono tutti di pessimo umore. E se manca anche il caffè, figuriamoci. Perché? Che è successo? Ah, perché? Non l'avete ancora saputo. Oggi c'è l'ultima udienza e la sentenza. Ed è molto probabile che Annabelle venga assolta. Sono tutti demoralizzati. Eccetto Annabelle, naturalmente. Buongiorno. Posso sedermi con voi? Stiamo ancora facendo colazione. Non fa niente. Tanto fra poco passano a prendermi. L'ultima volta con la cavigliere elettronica addosso. Non si rallegri tanto presto. Adesso mi rallegra anche solo l'idea di fare una passeggiata. Speriamo che stavolta tu perda la strada per sempre. Lì sì. Ma nessuno è contento del fatto che non dovrà più vivere nella stessa casa con una presunta assassina? Una soluzione non cambia il fatto che lei è responsabile della morte di Vittoria. La corte la pensa diversamente. Già, perché tu hai mentito a tutti come al solito. Adesso basta. Qualsiasi cosa verrà decisa oggi in tribunale, questa famiglia la accetterà. Grazie, Ricard. Lo so che posso contare sempre su di te. Ma questo non vuol dire che tu qui sia ancora la benvenuta. Ovviamente. Ci vediamo più tardi in tribunale. Perché vuoi andare all'udienza? È pur sempre mia madre. Invece dimmi, che voleva da te ieri sera il signor Ritter? Niente. È venuto apposta qui per parlare a quattro occhi con te e non voleva nulla. Voleva parlarmi di lavoro. Voleva solamente sapere delle cose che riguardavano l'azienda. Roba noiosa. Era venuto a fare visita ai fan Biden e ha colto l'occasione per passare da me. Ora scappo. No, farò tardi. Ciao. No, no, no. 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 Buongiorno. Nel presente processo contro Annabelle van Weyden, oggi la corte si riunisce per emettere la sentenza. Prego, prendete posto. Un momento. Che vorrebbe dire un momento? Devo fare una deposizione come testimone oculare. Chi è lei? Io sono... È la mia figlia naturale, eccepisco l'inattendibilità della testa. Per quale motivo? Quando lei era appena nata, l'ho dovuta dare in adozione, per stato di necessità e non riesce a perdonarmelo. E ha paura che sua figlia oggi si voglia vendicare, vero? Sì. Vuole solo che finisca in carcere, me l'ha detto lei stessa. Allora, posso fare la mia deposizione oppure no? È consapevole che sarà sotto giuramento? Sì. La falsa testimonianza è un reato grave, punibile con la reclusione fino a 15 anni. Io vorrei solo dire che cosa ho visto quando è morta Victoria van Weyden. Non può aver visto niente, mi creda. Lo sanno tutti che eri alla festa organizzata da Tobias Baker. Dovevo andare in bagno e quindi sono entrata nella villa. Sta mentendo. Chiedo che mia figlia lasci subito l'aula e venga espulsa dall'udienza. Signora van Weyden, respingo l'eccezione di inattendibilità. Si accomoda il banco dei testimoni per il giuramento. È strano che Nora sia voluta andare a tutti i costi all'udienza. Forse spera che sua madre sia assolta. Possibile che cerchi la sua vicinanza. Tutte e due dovrebbero solo passare un po' più di tempo insieme e conoscersi meglio. Se Annabel van Weyden la riconoscesse come figlia, Nora sarebbe finalmente felice. E forse a quel punto io e Simon potremmo avere una possibilità. Avrei una domanda per la testa prima della sua deposizione. Certo, è un diritto della difesa, prego. Il giorno in questione, lei è stata alla villa? Sì, è così. Una falsa testimonianza non danneggerebbe solo me, ma anche tutti gli impiegati che lavorano nell'azienda. E perché? Non c'è la falcant al porcellane davanti alla corte. Non posso mandare avanti al meglio la mia azienda dalla prigione. Se la falcant al porcellane rimane nelle mani della famiglia, ovviamente anche le generazioni fuori della famiglia beneficeranno dei buoni profitti dell'azienda. Hai capito? Sì, perfettamente. Obiezione, non ha a che vedere con il caso. Voglio soltanto far notare a mia figlia a quali conseguenze andrebbero incontro molte persone. Se lei affermasse qualcosa di falso per dei motivi esclusivamente personali. Obiezione accolta. Per favore, venga al punto. Che cosa ha visto quel giorno entrando nella villa? Ecco, sono entrata soltanto per pochi minuti, altrimenti avrei di sicuro capito cosa stava succedendo a Victoria. Stia tranquilla, nessuno ha intenzione di rimproverarla. Ma adesso ci può dire che cosa ha visto? Ho visto chi ha preso il secondo bicchiere dal tavolino. È stata Victoria van Biden. Mia madre è innocente. Ma ti sei appena trasferito. Allora ti mancherei un po'? Sì, certo. La gente mente, è cattiva, benvenuta nel mondo reale. E per questo devi essere come loro. Beh, Hagen, non ti riconosco più. Sophie, sei così ingenua. Annabelle non è la vittima, quando è che lo capirai? Le persone come te contro di lei non hanno possibilità.